Dopo la nomina del presidente senesi Massimo Guasconi avvenuta lo scorso 12 novembre, la nuova Camera di Commercio di Arezzo e Siena adesso ha completato le procedure di costituzione degli organi politici e di rappresentanza di quella che è la realtà economica della nuova circoscrizione territoriale di riferimento, la più grande della Toscana, una delle più grandi d'Italia. I nuovi membri della Giunta eletti a scrutinio segreto sono Roberto Bartolini, Franca Binazzi, Andrea Fabianelli, Walter Fucecchi, Anna Maria Nocentini-Lapini, Daniele Pracchia e Ferrer Vannetti. La Giunta Camerale sarà chiamata nelle prossime settimane a predisporre per l'approvazione da parte del Consiglio i documenti previsionali e programmatici, a cominciare dal bilancio preventivo e dal programma pluriennale dell'attività dell'ente. Le imprese dei rispettivi territori continueranno ad usufruire presso le due sedi di tutti i servizi e gli sportelli già esistenti. Tutti gli uffici sono rimasti nei rispettivi territori, tutti i servizi hanno posizionamento sia a Siena sia ad Arezzo, non è stato perso un posto di lavoro, i colleghi continuano a lavorare esattamente come lavoravano prima sulle stesse materie. Abbiamo cercato di interpretare questa legge, perché si è fatto tutto ai sensi di legge, in maniera che per i territori ci fosse meno problematicità possibile. Io sono un tecnico, quindi ho curato la parte tecnica proprio in questo specifico spirito.